L'area dell'eliporto di Clusone è stata acquisita dalla Setco, che la utilizzerà per custodire una quarantina di mezzi impiegati per il trasporto dei rifiuti. Si tratta di un'area di 8.000 metri quadrati, di cui 1.200 di uffici e magazzini. La compagnia elicotteristica Elieuro, che aveva gestito per ultima questa struttura, aveva cessato l'attività nel 2009 e ora è in liquidazione. Nel marzo del 2010 la società alla ricerca dei introiti per sanare la situazione finanziaria aveva chiesto al comune di Clusone un cambio di destinazione d'uso dell'area. Ferma restando la sussistenza della struttura dell'eliporto, utilizzabile come area di atterraggio e appoggio per le emergenze del soccorso alpino o della protezione civile. Il comune ha dato il proprio nulla osta e l'area ha destato l'interesse dell'Assetco, che si occupa di servizi comunali, tra cui la gestione dei rifiuti urbani di 29 comuni della Valle Seriana. Il presidente Marco Brandi ha dichiarato all'Eco di Bergamo che l'Assetco era da tempo interessata all'area, ma l'ipotesi di un suo utilizzo ha preso corpo ultimamente con le decisioni dell'Assemblea dei Soci. Cambierà la destinazione d'uso dell'area eliportuale, ma rimarrà la pista di decollo degli elicotteri destinati a servizi di pubblica utilità.